la granata no ok cerno uno è la difesa di charlie stanno in due ok fate una cosa se siete morti squadra su delta scendete su bravo la squadra di laga c'è un po' di do grasparadeo a te grasparadeo e pombole ma che camminano solo bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti